Siamo pronti per una nuova avventura per la nostra casa da Nusma. Siamo diretti in una delle aperture mai esplorate sinora, sperando di trovare un importante bottino, che consiste sempre in scatolette di tonno, carrelli, arnesi della Prima Guerra Mondiale e anche della Seconda. Andiamo! 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 Vai, vai, sui sassi, sui sassi. Prima dell'ultima fatica ci gustiamo la nostra merita alta merenda. Prima dell'ultima fatica. Scambio appoggiato alla parete. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.